ok se ci sta andando allora vedere cosa ho comprato alla libreria se ci sono andata alla libreria si lo so ho aspettato tantissimo dei compiti però ci volevo andare ho dovuto fare attenzione di questa bambra da 2016-2017 il libro di Bobo è la idea credo che ci ho avuto ci sono stati tutti i giorni fino a dieci ero io bello infatti ho letto vabbè la faccio iniziare vabbè provo ho letto e già scippo questi due non so c'è questo qui dici che ho fatto nove anni infatti abbiamo il libro di Bobo è stato diciamo non so diciamo un libro di Bobo è stato città quattro e eh sì non siamo iniziati allora io penso che due donne per me vanno benissimo gli uomini no sono tutte chiptostiche non è fantastica perché non sono le chiptostiche ma sono animati qui c'è tastiche non so e con questi libri o a te lo hai fatto? e con questi libri lo chiamiamo facciamo scipuglioli e anche nella storia allora guarda che devo fare un quale va sotto Lì ci sarà dell'olino, lì ci sarà dell'olino, lì ci sarà l'olino, perché non va perché allora, ha una cione viola, qui intorno ha una cione, l'occhio, c'è un viola, ha un microfono, è impossibile, comunque questa sera, questa sera gigante, e qui dietro, ma io, adesso non so se tu, non so, lunghi, qui, da un lato ha fatto la parte, più lunghi, se non ho fatti, se non ho fatti, se non ho fatti, tu arêt, se è quello che un po' di preferito buoni ah gli ho messo legato a braccio perchè ho messo il sito a questo abbraccio però quindi non è già l'acceso sai perchè ho detto che c'è l'acceso a questo questa cintura questa qua non è 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 questa qua non è